Un canto dolce e intimo, sublime espressione della bellezza e dell'amore di Dio. Il coro della Cattedrale della Trinità ha accompagnato l'incontro tra Papa Francesco e il Patriarca di tutta la Georgia, Elia II. Il raccoglimento iniziale è stato seguito dalle parole del Catolicos, lo stesso che nel 1999 accolse Giovanni Paolo II e che pur nella fatica dell'età avanzata ha voluto oggi esprimere la gioia di questo incontro, un segno di fratellanza tra le Chiese che oltre alle difficoltà e le incomprensioni passate devono rendere una testimonianza coerente della fede. Davvero l'amore del Signore ci innalza, gli ha fatto ecco Papa Francesco, perché ci permette di elevarci al di sopra delle incomprensioni del passato, dei calcoli del presente e dei timori per l'avvenire. Di fronte a un mondo assetato di misericordia, di unità e di pace è quanto mai urgente che tali vincoli abbiano un nuovo slancio e rinnovato fervore, perché, ha proseguito il Pontefice, le difficoltà non siano impedimenti ma stimoli a conoscerci meglio, a condividere la linfa vitale della fede. In un clima di cordialità e benevolenza Papa Francesco e Elia II si sono assicurati reciproche preghiere, auspicando che i cristiani siano sempre innestati in Cristo come tralci, aperti alla perenne novità di Dio, fedeli al Vangelo, diffuso in queste terre da Sant'Anino, nel segno particolare della croce fatta di legno di vite.